Sì, padrone Xator, perché non combattiamo? Pensavo che Lord Boidus volesse quei frammenti. È per questo che dobbiamo essere astuti. Difficile per te, evidentemente. Ora restate fermi. Anima oscura! Chi è questo bel drago? Puoi portarmi alla torre? Avrai un dolcetto. Già, sloggo arrosto per te e per me. Andiamo, Aaron. Non c'è tempo per le coccole. Di a Brago cosa fare e lui obbedirà. È solo un animale. Non ascoltare, mister Brontolone. Sei un bravo ragazzo, Brago. Forza, facciamoli per salto. E ora... Possessione Oscura! Avete sentito? Erano i Darkan? Beh, è troppo tardi ormai. Andiamo! È fatta, Lord Voidus. Il tuo piano è stato attivato. Perfetto! L'Elestar stavolta sarà mio! Presto ricostruiremo l'Elestar completamente e Gorm sarà salva. Alla grande! Ora coccole, mister Brontolone! Non Brontolo, sono concreto. Le Hyperbeast devono sempre obbedire ai comandi, altrimenti... Ma che succede? Credo che le Hyperbeast ce l'abbiano con noi. Cosa? Ma... No, qualcosa non va. Non mi dire. Guardate, hanno preso l'Elestar! Torre, chiudi la porta. Torre, che cosa fai? Graio, ora basta! Smettila subito! Dobbiamo recuperare l'Elestar! Chiamo un Gormita! Cosa? Combattere i nostri amici? Sembra che siano i nostri amici a voler combattere! Non puoi chiamare un Gormita adesso! Avete già chiamato le Hyperbeast! Cuno di luce! Slator! Sei uno sciocco piagnucolone! Hai lasciato che i guardiani risvegliassero il guerriero Mecha del Fuoco! Mi fermerò prima che possano raggiungere il cristallo! No, mago da strapazzo! Tu non farai niente! Userai l'energia del cristallo Mecha del Fuoco per poter distruggere definitivamente i nostri nemici! Ma... Voidus! Questo è un ordine! E d'ora in poi dovrai chiamarmi Lord Voidus! Sì, Lord Voidus! Forse sarai il mio Lord Ura, ma un giorno sarò io a regnare su Gorma e su Darkor! Gormiani, arrendetevi oppure sparirete per sempre! Sator, ma quante volte ancora vuoi essere sconfitto? Aspettate! È sovralimentato dal cristallo! I suoi poteri oscuri e la Mecha Energia si sono fuse per creare l'energia Omega! Sì! Questa volta il potere non è affatto un'illusione! Necroduplicatore! Sei stato davvero impressionante! Ora sei due volte più brutto! Così mi divertirà il doppio a distruggerti in Ocleor! L'afficazione monica! Tremate, Gormiani! L'afficazione monica! Scudo di luce! Wow! Spero che Nucleor interrompa il rifornimento di potere Mecha molto velocemente! Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Carion! Carion, tu, Lord, pensi davvero di essere tanto speciale, ma con i miei nuovi poteri ti schiaccerò come un insetto qualsiasi! Noto che è raddoppiata anche la tua enorme arroganza! Non è... Magma Plus! L'energia Omega di Xator è davvero smisurata! Ma Carion sta resistendo! Abbiamo ancora una possibilità! Per caso qualcuno prima stava parlando di rinforzi? Necroduplicatore! Zotobu! Ma è dappertutto! Lord Carion, attenzione! Tu sei un ignorante villano! Nessun Darkan è più cattivo di me! E nessuno! Nessuno! Mi dice cosa devo fare! Fulmine infernale! Pensi di salvarti nascondendoti dietro il tuo Lord? Quanto tempo credi possa resistere per contrastare tre attacchi Omega? Non molto! Combatti, Orion! Salve, guardiano! Come posso aiutarti? Vuoi allenarti oggi? Orion, c'è un fantasma! Ci sta attaccando e lui... Dov'è finito? Di chi parli? Si tratta di un indovinello? No! Non c'è nessun fantasma! È... Raffica diabolica! Raffica percorante! Affascinante! Vuoi dire super inquietante? Questo castello è stregato! Dobbiamo andare via! Lontano, lontanissimo da qui! Come si batte un fantasma? Non si può battere! Non è un fantasma! È Xator! Hai il potere di rendersi invisibile, però riappare ogni volta che sferra un attacco! Non devi aver paura, Aaron! Oh, invece dovresti averne! Dovresti averne come? È il fantasma di Xator! Sparagli! Anzi, no! Potresti colpirmi? Anzi, no! Sparagli comunque! O saremo dei fantasmi! Orion! Raffica percorante! Tutto bene! Non riusciremo mai a scappare! Ci trasformeremo in fantasmi anche noi! Oh no! Io non voglio passare l'eternità in questo posto! Non preoccuparti, Aaron! Il vento non ha preoccupazioni! Hai ragione! È solo un Darkhan invisibile potentissimo! Non c'è da aver paura tua o che hai paura? Scommetto di sì perché... Siamo in ballo e quindi balleremo con lui! Ballare? Non posso ballare! Non riesco nemmeno a muovermi! Ok, d'accordo! Stiamo andando bene! Non devo preoccuparmi più di tanto! E invece mi preoccupo! Andiamo via! Dai ragazzi, mi prego! Voglio uscire di qui e rivedere i soli e le lune e... Avete sentito? Certo che ho sentito! Però adesso basta con tutte queste esplosioni fantasma, per favore! Andiamo! Aaron, devi fare qualcosa che potrebbe risultarti molto difficile! Cosa? Farà male? Il dolore non mi piace! Posso fare qualcos'altro? Con le cose facili non me la cavo? Beh, potrei... Dovrai fare silenzio! Fare silenzio? Beh, questo lo posso fare! Sarò muto come un pesce! Prezzamento! Ehi, non è un fantasma! Ciao, Xator! Vuoi combattere ancora? O riconosci la tua sconfitta? Per questa volta hai avuto fortuna, Orion! Ma Darkor diventa più forte! Presto ci incontreremo di nuovo! E perderai! Sì! Potere allo stato puro! Xator! I guardiani si rifugiano nella Fortezza Fiamma! Quegli sciocchi credono di essere al sicuro! È il momento giusto per distruggerli una volta per tutte! Ma Lord Poidus, Fortezza Fiamma è protetta dall'Elestar! Non riuscirò mai a... Devi avere fiducia nel tuo Lord, Tarkon! Ho corrotto un frammento della loro preziosissima Elestar! I guardiani non se ne sono ancora accorti, ma le difese della Fortezza sono estremamente deboli! E allora nulla potrò salverli! Un ottimo piano e un'ottima esecuzione! Tocca a te, testa calda! Ok, signor perfettino! Guarda, magari impari qualcosa! Troppo facile! Una passeggiata! Che giochino divertente! Attenti! Potrebbe essere pericoloso! Sator! Nah, è un suo trucchetto illusionistico! Fortezza Fiamma è impenetrabile anche per lui! Se fossi solo un'illusione, non potrei fare questo! Trafica diabolica! Idros! Ghiaccio letale! Bene, bene! Un gormita del ghiaccio circondato da lava! Comincia a sentire caldo, vero? E ci stiamo solo riscaldando! Fulmine infertale! Mi dispiace deluderti, Xator! Ah! Zero assoluto! Golga! E coi ultrapoteri non passano nulla contro la mia energia, Omega! Non ne sarei così sicuro! Forza, Riff, raggiungi il sigillo! Certo! Tu tieni il Darkano occupato, mentre io... Oh no, Mark! Non deludermi anche tu, Xator! Non ha distrutto niente! Mi ha davvero deluso! Energia Omega! Presto diventerò più forte anche di Voidus e... Xator! Eh? I guardiani stanno per attivare un sigillo! Blocca lì! Ma la mia trasformazione è incompleta! Ancora un po' di energia, Mecha, insieme ai miei poteri oscuri e poi... Dimostrami di avere un cervello capace di battere i loro muscoli e forse dimenticherò ciò che ho appena sentito! Certo! Sono ai suoi ordini, Lord Voidus! Ah, ci siamo! Dietro a... Xator! Se volete attivare quel sigillo, guardiani, dovrete prima vedervela con me! Da dove arriva la sua estrema bruttezza? Già, è strana! Ho trovato un modo per aggirarlo! Vedete? Quella rupe sembra... Ci penso io! Combatti Koga! Era un miraggio! Avete appena attivato il sistema di difesa! Vi auguro buona fortuna! Sottobo! Attento! Sei davvero ottimista, piromane! Non mi ingannerai di nuovo col tuo sciocco miraggio! E che ne dici? Di infiniti miraggi! Oh, Sott! Questo è di sicuro quello vero! Prova di nuovo, testa calda! Ai tuoi amici non resta ancora molto tempo! Questi gormiti mecha sono una sorpresa continua! Non mi piace! Riff non riesce a controllare il carattere rabbioso! Sì! Il vostro guardiano sta lasciando che l'orgoglio abbia la meglio su di lui! Sottobo! A te! Vediamo se possiamo aiutare il vostro amico ad arrabbiarsi ancora di più! Continua così, Riff! Si volterà di spalle da un momento all'altro! Tranquillo! Ci vuole più di un pagliaccio di latta per deconcentrare il supremo ultraguardiano! Dì qualcosa! Fa qualcosa! Fa qualcosa! Lo scontro più noioso di sempre! Gli consenti di prendersi gioco di te! Stai perdendo! Sei un perdente! Già, sei un morcogon! Mork! 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 Non sono un morcogon! Voi siete dei morcogon! Non farti distrarre! Concentrati sul combattimento! Ma perché i tuoi amici dovrebbero insultarti? Non ha alcun senso! Mork! 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 Gormiti! Gormiti! Raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!